Gisele Bunkin gelosa di Ivanka Trump? Ecco svelato l'indizio Gisele Bunkin è bella, affascinante ed è anche una delle top model più pagate al mondo. Questo però sembra non essere sufficiente per restare tranquilla in merito alla sua relazione con Tom Brady A quanto pare infatti, la modella potrebbe essere gelosa della figlia dell'attuale presidente degli Stati Uniti e il motivo è molto semplice A rivelare alcuni indizi è stato Anthony Scaramucci, ex portavoce di Donald Trump, il quale ha raccontato alla stampa americana, un pettagolezzo che ha lasciato tutti stupiti Scaramucci ha spiegato il motivo dell'assenza di Tom Brady, famoso quarterback della squadra dei New England Patriots, durante una cerimonia alla Casa Bianca, alla quale ha partecipato tutta la squadra Tale motivo, sarebbe proprio legato ad un possibile triangolo amoroso tra lui, la moglie Gisele Bunkin e Ivanka Trump Tom Brady è uno sportivo americano molto amato dal pubblico ed è sposato dal 2009 con la supermodella Gisele Bunkin È sempre stato un fiero sostenitore del governo Trump, fin dall'inizio della sua candidatura, per questo la sua assenza in occasione della cerimonia di celebrazione alla Casa Bianca, per la vittoria del Super Bowl, è apparsa molto strana Tutta la squadra era presente, eccetto lui, che ha emesso un comunicato stampa in cui si dichiarava molto felice del risultato raggiunto e grato al presidente per aver sempre tifato la loro squadra A rivalare il possibile motivo della sua assenza è stato l'ex portavoce del presidente USA, il quale ha diffuso la notizia di un vecchio flirt dello sportivo con Ivanka Trump Inoltre nel 2004, lo stesso Donald Trump aveva dichiarato la sua ammirazione per Tom Brady, sottolineando che lui e la figlia sarebbero stati una coppia perfetta Malgrado il quarterback abbia motivato la sua assenza per motivi familiari, i rumor s'affermano invece che Gisele Bunkin gli avrebbe vietato di partecipare al party per evitare un ritorno di fiamma con la First Daugter del presidente Grazie a tutti